Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Alex Z e oggi vi farò vedere come entrare nella mia crew Adesso siamo sul social club e questo è il mio profilo Se volete mi aggiungete gli amici Qui sul social club io ve l'accetterò sicuramente Anzi subito Ora ragazzi per trovare la mia crew Andate su cerca e scrivete qui The Z crew Io vado da qui perché ce l'ho a fianco Ecco qui Ragazzi ho fatto il simbolo Ho levato quella porcheria che c'era prima Cioè questa cosa qui E ho messo questo qui Molto carino Comunque apprezzerei molto se qualcuno anche provasse a fare dei simboli E li pubblicherebbe qui Per fare un simbolo dovete cliccare su crea E qui c'è l'editor dei simboli E fate quello che volete Innanzitutto Allora ragazzi Questa è la mia crew come ho detto prima E' una crew sola di invito Perché Se no Si crea un casino Se la mettevo libera E potevano anche iscriversi persone che non mi seguono neanche E tutta quella roba lì Ragazzi volevo anche dirvi Adesso mi metterò link in descrizione del video Della crew Voi venite E Praticamente Quando mi arriva la vostra richiesta Io vi accetto Però notato che sul social club Quando io vi accetto Poi in automatico Invio In una richiesta A voi Per entrare Praticamente Quindi non è che se io vi accetto Voi state già nella crew Ma dovete sempre accettare voi dopo Per la seconda volta Non so perché c'è questa pratica qui Ma che è molto fastidiosa Però ragazzi Devo per forza fare così Ad esempio Ieri mi sono arrivate Tre richieste Ancora non Non ci sono proprio Infatti siamo sempre quattro membri Perché dovete ancora accettare voi Ora ragazzi Per entrare nella mia crew Dovete avere il profilo aperto Perché io devo vedere Come siete messi qui Una piccola regola È che potete stare In massimo due crew Non vi dico in uno Non voglio togliervi la possibilità Di giocare Con altre persone Quindi Potete stare in massimo due crew Se vi vedo che state In più di due crew Io vi espello in automatico Perché Poi veramente Sire un macello Sarete inattivi Sicuramente Nessuno più cagherà la mia crew Ragazzi Volevo anche dirvi Ho scelto il nome Di ZiziU Perché mi piace molto Ed è come se siete Voi il mio gruppo Praticamente Non mi piaceva Come avevate detto voi Alex Z The Gamers Queste cose qui Perché sembrava Un nome basato Solo su di me Io invece voglio Che ci siete anche voi insieme Quindi Vorrei essere un gruppo unito Praticamente Ragazzi Poi Ho scelto questo colore Adesso ve lo faccio vedere È un blu elettrico Molto bello Io l'ho provato Ed è È davvero niente male Quindi Se magari carica Ecco qui Questo qua Il colore Potete vedere quanto è forte Infatti Potete applicarlo Come sapete Già sulle macchine Fumo Dovete sbloccare Chiaramente I ranghi Quindi non riesco a capire Come si vanno a modificare Qui le maschere Della crew Ma le fa modificare a me Forse quando le sblocco Le potrò modificare Ragazzi Volevo anche dirvi Che Nella gerarchia Ho eletto Due persone Che sono i miei amici Quei fidati Come consigliere Alex Pesca E come tenente Boss Cree Che qui si chiama Mr Cree Se volete Chiedete anche L'amicizia a loro Loro saranno Diciamo Gli altri due moderatori Della crew Che controlleranno Comunque Se siete In più di due crew Se non avete Il profilo aperto Tutte queste cose qui Ragazzi Quindi Iniziate Ad inviarmi La richiesta Perché come vi avevamo promesso A 200 iscritti Faremo un piccolo raduno Tutti insieme In una sessione privata Su PSN Poi ovviamente Quando arriviamo a 200 iscritti Farò anche un video Per indicarvi Tutta la situazione Praticamente Come funziona Il raduno Tutte queste cose qui Quindi faremo il raduno Per giocare tutti insieme Però Per essere nel raduno Dobbiamo essere nella crew Quindi non voglio dire Che siete In altre più Dovete tenere Attiva Questa più Così vi invito Tutti insieme Non so se saremo 16 Però Comunque Vi vedero E ragazzi Io ho davvero detto tutto Aspetto le vostre richieste Per accettarle Inviatemi anche la richiesta Di amicizia Qui Sul social club Perché Sono molto contento Di fare questa cosa Insieme a voi Ragazzi Da Alex Z È tutto Al prossimo video